Alla fine hanno pagato questo. Che partita si è sembrata, Luca? Si vedeva dall'inizio che la sofferenza maggiore era proprio sugli attacchi centrali. Eh, ma perché ho trovato che quello che forse mi faceva proprio male è modo flessibile. Oh, ma che si è addormentato? No, sì. Perché con il fisso mi trovo di più con i giocatori. Flessibile è andato un po' troppo a cazzo. È stato un onore, come sempre. AUGUST! Venga Augusto, si è abbioccato, regalo. Lo chiamo su telefono. Qua è un uomo. Qua è un uomo che mi ha chiamato, te. Lo chiamo su telefono. Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Mimmo! Allora, dimmi. Stai facendo ufficiali? Dovrei farla con Danilo DJ, però mi sa che è staccato. Se no ti andrebbe di fare un amicore? Newcast. Che poi devo proprio scappare che domani c'è la guida. C'è l'esame di guida. Uuuu. Ok. Un po' più, due amici. Mi è in campi piatti, otto e mezzo. Piottri. Minchia, tutti e due abbiamo fatto orte i cento passaggi. Mamma mia. Che grazie. Vabbè, lo chiamo?